musica 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 ah che cacci che speciale Sommi like you Highlights nothing more Too bad I'm going to go to Sommi like you mare d'inverno è sempre un pochettino madonna guarda sto fisciai come mi vede comunque venire al mare di inverno sempre mette un pochettino di questa non depressione ma questo rilassamento troppo lontano dai ricordi che abbiamo quando faceva caldo che veniamo a divertirci col camper con le queste però il panorama è mozzafiato poi con questo fisciai come vedete io sto riprendendo e mi da un contrasto sulle nuvole pazzesco come se ci avessi un filtro polarizzatore non ne ho bello questo è il samyang 7,5 mm f 3.5 va benissimo la serata come vedete nuvola quindi è un po buio sono le 4 del pomeriggio però ragazzi guardate qua c'è il contrasto che fa con le nuvole ma quanto è bello spettacolare proviamo a sollevare un pochettino di più abbiamo dato un po più di luminosità un po più di motion blur perché abbiamo messo un 25esimo con 25 fps quindi abbiamo la shutter alla stessa velocità delle fotogrammi per secondo dovrei avere un pochino più di di motion blur un po meno di contrasto comunque il mare d'inverno come diceva loredana bertè non è solo un film in bianco e nero vista la tv questo è tre bisaccia in provincia di cosenza siamo arrivati a schiavonea che non è male come paese è che ci si incontra un sacco di brutta gente e quindi tipo questo tipo questo veleno nevito possiamo un bel caffettino e ci vuole ciao bello salutiamo a flavio a chi altro salutiamo a luca ad angelo a betta sandro a come si dice a monica diciamo i nomi a casa tanto invecchiamo francesca giovanna alessia alessandra federica qualcuno ci sarà federica la mano amica c'è sempre grazie ma comunque padre hanno live ogni tanto questo ne fate poche non è che non è che c'è poca gente si sta benissimo noi siamo sempre al mare schiavo nea è la parola composta tra schiavo e nea e nea e nea greco e la madonna mo ci metto pure la copro aspetta voi non lo vedete ma accanto a noi c'è un camper micidiale fatto a camion tipo container posteriore fatto a camper addirittura c'è la canna fumaria non so se ci avranno una stufa pellet forse perché con quella canna fumaria stufa a legna no a legna no perché poi c'è la legna sul camion c'è una stufa a legna che sono dei pazzi comunque bello all'avventura vive la france ciao ma non è vero perché sono messa mai ma ci dobbiamo fare un effetto dolore lo sentite che casino che fanno lo sentite allora la moglie abbassava un po' il volume ciao prezzo questi sono quei matti che stanno sempre in live quindi io dico come ho chiuto il blog di oggi dopo aver fatto tutto quel giro dopo aver visto vedendo che quello là che sta nero sullo schermo vedi quello nero e dopo sono andato in riva al mare a far vedere dei fulmini che erano in lontananza forse a Taranto era no? perché noi eravamo solo Ionio come ho chiuto il suo blog? e come ho chiuto? ho chiuto con questi quattro amanti che stanno in live e mo ho chiuto il suo blog e vado in live pure io e poi ci vediamo in live nella live ma alla fine della live rivediamo la live nel blog della live non casino ciao